Adesso vengo qua in Italia, di avere questa opportunità in questa grande squadra, di dimostrare i giocatori che sono. È una grande opportunità, come ho detto prima, di dimostrare i giocatori, di fare di nuovo bene. Poi l'esperienza in Inghilterra è stata bellissima, come conoscete il calcio inglese è molto bello, si sta bene, in Inghilterra è molto professionale in tutto. Però non mi trovo molto bene con il ruolo che ho fatto, come ho chiesto di venire qua, e non mi trovo molto bene con il ruolo che è attaccante.